Noi ora proseguiamo con la battaglia Notav che è stata al centro del question time di questo pomeriggio alla Camera rispondendo alla parlamentare di Italia Viva Silvia Fregolant, la ministra dell'interno Luciana Lamorgese ha snocciolato i numeri delle forze dell'ordine in campo. A Chiomonte 180 agenti più 266 militari dell'operazione Strade Sicure, a San Didero 120 agenti più 50 militari. Sentiamo le parole della ministra. Dal primo al 27 luglio corrente sono state assegnate complessivamente alla sede di Torrino per queste esigenze 9.356 unità di rinforzo.